La Lega parte all'attacco del candidato di centro-sinistra. Se vince Cosolini, dice il segretario provinciale Federiga, consegneremo la città alla sinistra estrema, che nei suoi programmi parla di no al federalismo, registro delle coppie di fatto e non solo. La volontà di dare risorse e lavoro a nomadi e stranieri. Noi invece diciamo che bisogna dare precedenza alla nostra gente. Ciò significa che risorse per i nostri giovani e i nostri zoccupati verranno tolte. Confermiamo che per noi il welfare vale anche per i cittadini stranieri, extracomunitari, che tra l'altro risiedono regolarmente sul nostro territorio. Nella misura in cui lavorano, pagano le tasse, pagano i contributi e spesso pagano i contributi che poi diventeranno pensione per i cittadini italiani. Il candidato di centro-destra Antonione, che oggi con il sindaco di piazza ha elencato davanti all'istituto Gregoretti quanto fatto dalla giunta uscente in tema di welfare, aggiunge che se Cosolini vincesse i voti della sinistra più radicale sarebbero decisivi e che per il suo avversario sarà un'impresa conciliare quelli che definisce diavolo e acqua santa. Cosolini risponde ricordando l'appoggio dato su Radio Radicale da Marco Pannella alla candidatura di Antonione. Le mie posizioni sono le stesse, che parlo con i radicali o che parlo con i cattolici. Non vorrei che dall'altra parte ci fosse una posizione buona per Marco Pannella e una magari buona per i cattolici integralisti. Cosolini oggi ha incassato l'appoggio di Franco Zigrino per dieci anni, direttore dell'azienda ospedaliera triestina. Perché è il candidato che dà la maggior credibilità ai suoi impegni per la sanità giuliana. Io ho lavorato 40 anni per fare decollare la sanità giuliana, vedo che invece attualmente la regione la sta distruggendo. Il sindaco di piazza non ha mai seguito i problemi sanitari, non ha mai sostenuto gli interessi della sanità giuliana.